Mi rivolgo a tutti i partiti che siedono in quest'Aula. Questa proposta di legge del Partito Democratico dimostra tutta la vostra disonestà intellettuale e scorrettezza. Inizio citando alcuni dati forniti dall'Associazione Open Police. 2.700 sono i milioni di euro incassati dal 1994 ad oggi da voi partiti. Il 1994 era l'anno successivo al referendum che aboliva a larghissima maggioranza il finanziamento pubblico. Con questi soldi avremmo potuto aiutare migliaia di famiglie italiane in difficoltà o rendere sicure tutte quelle scuole pubbliche che se va bene cadono a pezzi e se va male cadono in testa a studenti ed insegnanti. Di questo fiume di denari solo 700 sono i milioni che i partiti hanno effettivamente speso nell'esercizio dell'attività politica. Come sapete anche che ci dimezziamo lo stipendio e lo devolviamo al fondo per il microcredito alle piccolissime piccole e medie imprese. Un totale ad oggi di circa 12 milioni di euro che faranno ripartire e hanno già fatto ripartire centinaia di imprese. Imprese che invece voi state facendo chiudere con la vostra folle politica fatta di tagli agli stipendi e ai diritti dei lavoratori. E' fatta di tasse perché il tutto vi difendete dietro lo spauracchio del «ce lo chiede l'Europa». Quando vi volterete per capire quanto vantaggio credete di avere sarà troppo tardi. In quel momento noi vi supereremo e in quel momento vi superirà la voglia di riscatto dei cittadini, di tutti i cittadini onesti. E concludo, vi aspettiamo al traguardo, ci fermiamo superata la linea del traguardo e vi aspettiamo. Nel frattempo vedete se riuscite ad incassare pure questi. C'è scritto facsimile, ma forse riuscite a fare pure con questo. Colleghi, chiedo ai commessi di impedire che vengano lanciati degli oggetti dalla tribuna. Le persone dalla tribuna devono essere allontanate immediatamente. Colleghi, abbiamo tutti ascoltato i vostri interventi. Chiedo ai commessi di togliere dai colleghi del 5 Stelle i materiali che non sono...